Presso l'auditorium del liceo scientifico si è tenuto il secondo incontro di uomo ambiente politica con l'intervento del biblista Don Bruno Lankuba. Qual è il rapporto tra l'uomo e il creato? È un rapporto strettissimo perché il creato è l'ambiente vitale dell'uomo che ne determina non solo la vita, la qualità della vita. Il creato è l'uomo, tra l'uomo e il rapporto strettissimo perché come dice la Bibbia l'uomo è Adam, creato da Adamà che è la polvere della terra, quindi c'è un vingolo realmente esistenziale. Noi siamo stati collocati, dice il libro della Genesi, nel giardino di Eden, nell'Ampiendi, in questa casa che è la nostra casa, che dobbiamo da una parte coltivare e dall'altra parte custodire. E questi due verbi indicano la responsabilità che l'uomo ha nei confronti del creato. Il messaggio è che bisogna coinvolgersi. Per la verità la sensibilità a livello ambientale sta crescendo. Bisogna coinvolgersi perché i mali sono da una parte il disinteresse, dall'altra parte l'indifferenza, dall'altra parte l'accettazione passiva di questa condizione in cui ci troviamo. Dall'altra parte a volte una fede nel progresso così un po' miracolistica, invece è necessaria la partecipazione attiva, ecco la cittadinanza attiva, è necessario il coinvolgimento personale. Dobbiamo cambiare noi la relazione rispetto al creato per viverlo bene e affinché favorisca la nostra vita.